Mi trovavo in via Tante, là dove c'è un negozietto mia sorella, ho visto uscire questo fumo dal balcone per la paura che ci potrebbero essere bambini o quant'altro, infatti è stato così, c'era una vecchietta all'interno. Sono salito subito quando ancora non c'era nessuno, ho spinto la porta e la signora era nel corridoio, già svenuta, l'ho presa in braccio, sono uscito fuori mezzo indossicato, poi appena sono sceso dalla prima rampa di scala è salito Giuseppe Cucinella, un ragazzo che mi ha aiutato perché la signora era abbastanza pesante e l'abbiamo messa in salvo, poi dopo 20 minuti sono arrivati i poliziotti e sono saliti sopra nell'altro piano. Al cittadino Tonino Pollicino, con sprezzo del pericolo traeva in salvo una donna rimasta intrappolata all'interno di un appartamento dove si era sviluppato un pericolo sincero. Costima e gratitudine del sindaco Francesco Vinciglia. Giri la tanca. Non è. Quasi vai. Qui c'è una malvola. Ok.